fotografo i fari sull'altra corsia sono una linea di luci sembrano gli anni della mia vita venuti e passati senza spiegare alcuni più lunghi altri più corti ma a capodanno sempre più uguali eppure hanno lasciato qualcosa che rotola a terra la sera quando mi spoglio e la mattina si alza con me e la fotografia con me vicina di sera vicina di giorno vicina se stringo la mano se faccio l'amore se dico buongiorno e la metto da parte ma non ci riesco domani alla mensa ci sarà più gente che odori ma se tra un sorso e un boccone osservo chi mangia di fronte rivedo chi mi è sempre vicino e la fotografia che sale dal fondo come muschio di bassa marea commento il fotografo ha prima l'intuizione dell'immagine che vuole catturare e poi sceglie l'inquadratura lo stesso accade nella nostra vita in cui prima intuiamo l'esperienza che vogliamo fare e poi la selezioniamo dalla la nostra realtà interiore